buonasera benvenuti questa sera siamo al complesso distilleria di pomigliano d'arco e siamo in compagnia di giuseppe tecce con il suo liuba senza scarpe edito da graus edizioni buonasera giuseppe benvenuto grazie grazie per l'invito allora cominciamo dal titolo che a me mi ispira sempre tanto chi è liuba e perché senza scarpe allora liuba è il protagonista del libro è un ragazzo in realtà un uomo perché poi è nato negli anni settanta nato nell'ex unione sovietica però con delle origini diciamo della ex cecoslovacchia che oggi non esiste più è divisa in due repubbliche no è una persona diciamo che sin da piccolo mostra la una sorta di amore di affetto nei confronti della natura quasi smisurata tanto è vero che poi con una serie di peripezie lui arriva in italia nel momento in cui arriva in italia lui si diciamo aderisce ad un'associazione internazionale che si chiama rainbow family che un'associazione trasversale diciamo che è un gruppo persone che vengono da tutti gli stati del mondo che diciamo in qualche modo sono vivono secondo i dettami della natura quindi liuba come queste persone vive secondo i dettami della natura loro vivono senza medicine senza caffè senza caffeina senza sostanze psicotrope eccetera eccetera e anche senza scarpe quindi liuba è diventato liuba senza scarpe ha anche dei poteri un po paranormali no spiega cielo nato perché questo libro è comunque un viaggio introspettivo diciamo che c'ha dei poteri paranormali ma in realtà è il realismo magico l'effetto del gioco comunque quelli che sono gli effetti del realismo magico fanno un po parte di tutte le mie opere per cui il protagonista anche in questo caso diciamo attraverso anche quelli che sono degli escamotage possiamo dire escamotage narrativi riesce a trasportare gli altri protagonisti o comunque partecipanti insomma alla storia del del romanzo all'interno di realtà che sono parallele forse magari a quella nostra o comunque lontane rispetto alla nostra stessa realtà questo serve ed è utile nell'ambito della narrazione del racconto per raggiungere quelli che sono poi gli effetti desiderati diciamo quella che la la parte conclusiva il cuore insomma vero e proprio del del romanzo quindi sono degli sono dei poteri straordinari ma sono dei poteri straordinari che lui non è cosciente di avere cioè nel senso che li mette in pratica un po come nel caso del realismo magico appunto che lui mette in pratica queste questi tipi di cose questi tipi di attività senza però essere effettivamente concretamente cosciente e raccontaci allora un po la trama no ve la racconto sinteticamente perché sono dice che poi loro troppo eccetera eccetera allora la trama è questa lyuba arriva in italia dall'ex unione sovietica è appassionato appunto della natura e entra in questa associazione che la rainbow family aderisce a questa associazione però con una serie poi di vicissitudini di vicende in italia lui conosce una ragazza che il suo esatto opposto che è una persona un architetto una ragazza un architetto di famiglia borghese poi diventa la sua compagna diventa la sua compagna e chi ha diciamo uno stile di vita esattamente opposto al suo lei una cittadina vive in città insomma nessun tipo di contatto reale vero e proprio con con la natura nonostante ciò loro diventano compagni una sera invitano a cena due amici durante questa cena un amico marco dice siccome la cena è abbastanza noiose di ci facciamo un gioco il gioco dei sogni cioè dobbiamo raccontare un sogno che non abbiamo mai raccontato a nessuno in modo tale da far capire nel profondo chi noi veramente siamo fanno questo gioco tutti raccontano i loro sogni in maniera abbastanza normale nel momento in cui si arriva a lyuba lyuba in realtà non racconta il sogno ma come abbiamo detto prima li porta nel proprio sogno per cui scompaiono le mura che li circondano si ritrovano in una foresta della del nord europa e lyuba si trova esattamente a suo agio sale sugli alberi e di notte c'è la luna una piena e vanno alla ricerca di questo rito orgiastico che si fa in favore di questa dea frea che è una dea diciamo della saga dei norreni quindi una dea delle delle popolazioni nordiche e loro vanno in cerca di questo blot che questo rito orgiastico che si fa nel periodo autunnale per propiziarsi la stagione fredda la stagione autunnale ma soprattutto la stagione invernale che in quei luoghi è particolarmente fredda quindi lui sale sull'albero insomma un certo punto quindi facendo meravigliare tutti perché nessuno se l'aspettavano questa sua agilità eccetera e alla fine insomma lui capisce in che direzione devono andare fino a quando arrivano dove c'è effettivamente questo fuoco con delle donne nude che girano intorno a quel punto però la compagna katia si spaventa si spaventa a tal punto che comincia ad urlare questo fa sì che questa sorta di sogno svanisca e loro si ritrovano nella stanza a quel punto katia abbandona lyuba perché si rende conto di avere vicino una persona che è molto diversa rispetto a quella diciamo con la quale pensava di avere a che fare e a questo punto comincia la storia vera e propria che poi sono due storie parallele cioè la storia di lyuba e quella di katia che fanno un percorso appunto introspettivo perché cominciano ad auto analizzare se stessi ed il loro passato fino poi a arrivare insomma a quello che è il finale del libro quindi molto introspettivo sotto questo aspetto qual è il messaggio che tu vuoi dare con il tuo libro i messaggi sono quelli soliti dei miei libri insomma che ci sono spesso nei miei libri che sono diciamo sono delle tematiche che io tratto spesso che sono il tema del viaggio perché lyuba in questo caso nasce nell'ex unione sovietica attraverso una serie di peripezie che vengono narrate nel romanzo lui arriva in italia e il tema della natura insomma lyuba esatto il contatto con la natura io vivo in mezzo alla natura vivo in un paesino diciamo del sannio quindi vivo molto a contatto con la natura e per me la vita senza la natura sarebbe impensabile per cui diciamo io questo mio istinto questo mio riflesso in qualche modo lo riporto all'interno dei miei libri all'interno delle mie opere cercando di far capire quanto sia importante il rapporto tra uomo e natura e come questo probabilmente possa essere probabilmente la chiave di volta per la salvezza dell'umanità cioè se ritornassimo in qualche modo ad una vita più naturale probabilmente avremmo più speranze di salvarci forse ma poi lyuba le rimette le scarpe o no lyuba le scarpe assolutamente non le rimette perché lyuba è fatto così lyuba è selvaggio è una persona insomma abituato in quel modo lì non assolutamente non potrebbe mettere le scarpe ma non solo lui va senza scarpe ma lui anche nel periodo invernale lui in casa sta sempre nudo per esempio ha quasi difficoltà ad avere le posture di una persona tra virgolette civilizzata per cui lui ha difficoltà proprio anche ad avere i vestiti addosso va in giro nudo dentro casa così si trova a suo agio quando deve vestirsi si veste proprio il minimo necessario lo stretto necessario indossa in genere dei pantaloncini corti fino a sotto al ginocchio utilizza delle t-shirt anche nel periodo invernale quindi molto free sotto questo aspetto giuseppe perché dovremmo leggere il tuo libro perché dovreste leggere il mio libro dovreste leggerlo perché innanzitutto una bellissima storia d'amore perché alla fine è una storia d'amore raccontate in una maniera molto particolare perché ci sono dei flashback ci sono dei si entra in delle realtà diciamo così che sono parallele questo è tutto frutto ed effetto di questo realismo magico che mi piace spesso utilizzare all'interno delle mie opere ma soprattutto diciamo resta una bellissima spontanea e come posso dire genuina storia d'amore tra un uomo ed una donna storia d'amore forse di altri tempi anche con la natura no se vogliamo la natura diciamo fa un po da corollario da contorno rispetto a poi a quello che succede all'interno del romanzo però i protagonisti fondamentalmente sono Liuba e Katia secondo un giornalista che mi ha intervistato pochi giorni fa di avvenire ha detto secondo me la protagonista reale del libro è Katia vabbè ho detto sono punti di vista ho detto in realtà diciamo credo almeno dal mio punto di vista di quello che ha scritto il libro che Liuba sia un po quello che predomina all'interno della figura che predomina all'interno del romanzo però fondamentalmente è una storia d'amore storia d'amore tra due persone un uomo e una donna in maniera anche molto antica molto classica diciamo raccontata però in chiave moderna quindi facendo succedere delle cose moderne moderne che probabilmente insomma uno non ci si aspetta che possano accadere grazie Giuseppe allora non ci resta che leggere il libro di Giuseppe Tecce di Uba senza scappe edito da Graus Edizioni ciao